Ci sarebbe un debito di droga, probabilmente di appena un centinaio di euro, alla base del brutale e inquietante pestaggio avvenuto lo scorso sabato all'esterno del campus scolastico di Pesaro. Ad essere aggrediti e picchiati un sedicenne studente dell'Ipsia Benelli e un diciannovenne del liceo Marconi. Gli aggressori sarebbero già stati riconosciuti attraverso testimonianze e il supporto delle telecamere di videosorveglianza del liceo. Si tratterebbe di una banda di ragazzini di età compresa fra 17 e 20 anni di nazionalità marocchina e nigeriana. Ragazzi già noti alle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire i fatti di una spedizione punitiva che è stata sì un episodio estremo ma che è anche la cartina torna sole di un problema sicurezza sentito dagli istituti come ha spiegato Riccardo Rossini, preside del liceo Marconi e presidente dell'associazione Presidi delle Marche, intervistato oggi ai margini dell'iniziativa con cui le scuole pesaresi hanno commemorato il trentennale della strage di Capaci. Innanzitutto bisogna dire che le cose sono avvenute tutte fuori perché è stato erroneamente scritto che il ragazzo è stato picchiato, il ragazzo è stato studente del Benelli all'interno della scuola, all'interno della classe, sarebbe stato veramente ancora più grave. Tutto è avvenuto fuori, purtroppo sta avvenendo ed è qualcosa di veramente così violento che io non l'avevo mai visto prima. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo intensificare la sorveglianza, le forze dell'ordine, noi stessi, fare in modo anche che tutte le videosorveglianze che ci sono in zona funzionino e non mi risulta che sia così perché alcune non sono state nemmeno attivate, ci sono ma non sono attive, quindi dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo affinché quel luogo che è un luogo di formazione sia un luogo anche di sicurezza.